Un project financing da 100 milioni di euro per ampliare l'ospedale San Salvatore e renderlo più funzionale alle esigenze di operatori e pazienti. È quello finito sul tavolo del manager dell'ASRE dell'Aquila, Rinaldo Tordera, e presentato da due aziende, l'Aquilana Mancini e la Guerrato, che nel capoluogo gestisce la manutenzione degli alloggi del progetto case e in modo gli abitativi provvisori, mentre nel post-sisma ha ristrutturato tre padiglioni proprio dell'ospedale regionale. Entro il prossimo 28 ottobre, gli uffici tecnici dell'azienda sanitaria dovranno valutare il progetto di finanza ed esprimere interesse o meno sull'ipotesi progettuale avanzata dalle due ditte. In caso di interesse, la parola finale spetterebbe alla regione, già alle prese, con un altro project financing, quello da 400 milioni a cavallo tra Chieti e Pescara. Gli interventi proposti sull'Aquila sarebbero meno onerosi e invasivi. Oltre alla cifra, 100 milioni, si parla di realizzazione di nuovi parcheggi, anche sotterrani, la vera spina nel fianco del San Salvatore, una nuova palazzina per ospitare degli uffici e la copertura del vialone centrale, che assumerebbe la connotazione di un vero e proprio spazio attrezzato. In cambio la Guerrato chiederebbe di gestire i servizi per conto dell'ospedale, come mensa, polizia e manutenzione. Nelle prossime settimane si saprà quali saranno gli orientamenti dell'Asla, che già nel 2011, sotto la guida di Silveri, aveva presentato un progetto da 70 milioni per il rinnovamento della struttura ospedaliera, ma non se ne fece nulla. Grazie. Grazie.